se c'è una cosa che non sopporto sono quelli con pochi prodotti al supermercato che non usano le casse automatiche in english self check out la mia domanda è perché gli italiani non sanno utilizzare il self check out non è un intervento al cervello vedo le persone scansionare il codice a bar e poi guardare nello spazio dove lo metto adesso ho visto persone mettere tutti i prodotti nella busta e poi metterli sulla bilancia surprise quando la luce rossa inizia a lampeggiare non sanno cosa sta succedendo no non hai vinto un premio la cosa peggiore è quando qualcuno mette tutti i suoi acquisti sulla bilancia paga e poi inizia a mettere via i prodotti vedi la borsa sopra la bilancia è quella che va usata per i tuoi prodotti facile la magia del self check out è tutto ciò che devi fare è scansionare il prodotto e poi immediatamente mettere il prodotto all'interno della borsa sulla bilancia giusto le bilanze non pesano questa borsa quindi lascia che ti spiego di nuovo arrivi al self check out prepari la tua borsa della spesa questa leggera a base di mais la metti sulla bilancia aperta e pronta per i tuoi meravigliosi prodotti passa il tuo primo prodotto e mettilo nella borsa sulla bilancia e poi continua quando hai finito devi semplicemente sollevare la borsa wow ciao ciao ciao